benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri una notte di josue calaciura il bambino buono ogni creatura anche le pietre sembrava in attesa dell'evento e i mattoni per l'eccitazione aprivano crepe sulle pareti per sfuggire alle malte avvertivano quanto fosse incontrollabile e necessaria quella novità la vecchia ingiustizia aveva fatto ruggine nell'aria appesantendo ogni respiro si trasmetteva come un contagio aereo molti nascevano malati altri morivano giovani di violenza e di affanni ma tutti da tempo erano stati avvertiti del clamore di quella nascita leggendaria che li avrebbe guariti spezzando il tempo degli umili e degli ultimi con la promessa inattendibile che per loro il regno dei cieli anche per tutti gli altri ma i più sfortunati sarebbero entrati per primi lasciando su da terra il carico del loro dolore josue calaciura è nato a palermo e giornalista e collabora con rai radio 3 scrive per quotidiani e riviste tradotto all'estero ha scritto numerosi romanzi ne cito alcuni la penitenza bambini altri animali borgo vecchio il tram di natale io sono gesù ma la carne e il suo nuovo romanzo una notte edito da sellerio in cui si parla di una notte particolare quella del primo natale un bambino speciale nascerà a betlemme e sarà messo al mondo da una fanciulla sposa di un uomo avanti negli anni l'attesa ha qualcosa di indescrivibile perché questa notizia non può passare inosservata soprattutto per chi spera nel riscatto dalla povertà e dai soprusi la nascita del bambino che farà parlare molto di sé viene narrata attraverso dieci racconti in un presepe al quanto grottesco ma carico di tanta umanità in cui le vicende dei personaggi si intersecano meravigliosamente un'umanità ferita e lacerata ieri come oggi prevalgono gli umili i poveri gli emarginati tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia così troviamo il pescatore il soldato la sterile il bue il pastore lo scemo l'immacolata i magi e ancora madri padri bambini tutti accomunati dallo stupore di questa nascita che ha qualcosa che oscilla tra il reale e il fantastico aprono e chiudono il libro due racconti il racconto del bambino buono e del dell'uomo cattivo e così ci chiediamo nel grande mistero salvifico chi condanna chi salva vi confesso che non sono stata ad osservare mentre leggevo questa storia perché mi sono sentita parte di essa e coinvolta con tutte le mie debolezze e le mie emozioni questa storia universale prende ancora più forza dalle parole che giosuè calaciura affida ai suoi personaggi che paradossalmente non hanno alcun potere nella nella loro vita è un romanzo molto raffinato con una prosa struggente suggestiva e anche molto intensa ed è un romanzo anche molto commovente e tanto tenero e anche tanto poetico una notte nascerà il re dei re una nascita straordinaria e miracolosa e noi vogliamo essere protagonisti di questa storia ancora qual è il nostro posto in questo presepe allora leggiamo una notte di giosuè calaciura se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail o ancora mi trovate sui canali social instagram e facebook buona lettura www.paginedautore.it 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 www.paginedautore.it